Beh, è la prima cosa di un grandissimo Natale e un grandissimo anno nuovo per tutti i cittadini polesi, un amore e una simpatia perché ci deve essere, ma non solo per il 2017 auguri del Capodanno eccetera e del Buon Natale del 2016, ma anche per almeno per altri 30-40 anni per loro, per i loro figli, per i loro nipoti e per i miei nipoti e per i miei figli e tutte le famiglie polesi. Perché io lo faccio perché amo Polla, amo i cittadini polese e quindi il mio auspicio è che tutti i cittadini polesi faranno una grandissima festa e rimarranno felici per tutti gli anni che il Signore gli dà la loro vita. Beh, speriamo che cambia in buono perché le cose a Polla giustamente le sappiamo tutti, non è che vanno tanto tanto brillante, però speriamo che anche questa amministrazione che c'è una volta per sempre si dia un po' di coraggio e simpatia per i cittadini polesi e non solo esclusivamente, per i propri interessi e per gli interessi di qualcuno vicino a loro. Per tutti i 5.500 cittadini polesi che danno tanto bisogno come me e come tutti.